Il progetto Generazione Web fu intrapreso dalla Regione Lombardia allo scopo di innovare tecnologicamente i metodi di insegnamento tramite l'introduzione di attrezzature informatiche. Per il progetto, nell'anno 2012-2013, furono investiti 8 milioni di euro dalla Regione e 4 milioni dallo Stato. L'anno successivo, nel 2013-2014, furono investiti invece 15 milioni di euro dalla Regione. La lavagna interattiva multimediale, data anche l'IM, o lavagna elettronica, è uno strumento di integrazione con la didattica d'Alda, poiché coniuga la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità. Le scuole che aderiscono al progetto Generazione Web si impegnano ad adottare materiale didattico digitale, ad avere infrastrutture tecnologiche e a garantire docenti con competenze ICT e mente aperta alle innovazioni. è un modo, il sistema, per cambiare i metodi, migliorare il rapporto tra insegnamento e apprendimento. I nostri ragazzi oggi vivono una realtà non più solo di nativi digitali, ma vivono una realtà in cui stanno oltre la natività digitale. la loro vita si svolge con le tecnologie e noi a scuola dobbiamo fare in modo di interessarli. Le tecnologie consentono veramente al nostro sistema di essere al passo con i tempi. Grazie a tutti i nostri ragazzi. Grazie a tutti i nostri ragazzi.